Questa è una panoramica musicale della Big Bang Orchestra Copernicus. Vedrai come usare i key switch sulla tua tastiera, i tasti colorati che vedi qui, per accedere a tutte le articolazioni disponibili e come queste articolazioni hanno senso in un contesto più musicale. Tutti e quattro i prodotti Big Bang Orchestra Brass hanno la stessa struttura e ho parlato della struttura e delle possibilità nella Big Bang Orchestra Hercules panoramica in modo più dettagliato. E ora sediti e divertiti e ascolta le altre audio demo disponibili sulle pagine dei nostri prodotti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.